Fammi vedere la tua patente di guida per favore Se fosse stato dirigente fu abbandato per un motore dal poliziaone, carabinieri Il Vaziasin Buongiorno, fammi vedere la tua patente di guida per favore Fammi vedere Fammi vedere La tua Patente Di guida Patente di guida è a semiaga Cartiere di motorista, cartiere di allettazione Siamo a patente di guida Per favore Per favore, per piacere Poi fammi vedere la tua patente di guida Per favore, fammi vedere la tua patente di guida Grazie a tutti Grazie a tutti.